...di migliaia di morti di Covid, se il tampone non è uno strumento di agnostica e non lo è né il tampone rapido, né l'RTVCR, né tantomeno il prelievo sierologico e la morte che dichiarano come Covid, è reale secondo voi oppure no? No! Ebbene, cominciate a chiedervi perché il governo continua a disattendere queste certezze scientifiche!